Quest'anno riparte il corso di Dermatologia Interventistica, Estetica e Correttiva della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venerologia dell'Università di Napoli Federico II di cui mi onoro di essere direttore. Un corso diviso in sei moduli con 60 ore teoriche e 60 ore pratiche in cui i dermatologi, ma non solo i dermatologi, i medici che hanno interesse verso la medicina estetica, la dermatologia estetica, potranno imparare tutte le tecniche più moderne che riguardano la nostra cura anti-aging, riguardano il contrastare le cicatrici cutane ed acne, quindi il peeling, il filler, la possibilità di utilizzare la tossina botulinica senza danni, la possibilità di restaurare un viso e di ridargli giovinezza, sempre nell'ottica di una conoscenza che ci consente di essere sempre più saggi e sapienti nell'affrontare una pratica così delicata.